Benvenuti a Gossip in the News. Prima di condividere con voi gli ultimi aggiornamenti, vi esortiamo a iscrivervi al nostro canale, perché il vostro supporto è fondamentale per noi. La celebre presentatrice di Verissimo, Sylvia Toffanin, ha recentemente avuto l'opportunità di intervistare una famosa modella e showgirl. Questa volta, l'ospite d'onore è stata Nina Senicar, che è apparsa nello studio del programma di Canale 5 durante un episodio particolarmente toccante. Ma scopriamo i particolari nel video completo.